Benvenuti ad una nuova puntata di Prevenzione e Salute, la trasmissione realizzata da TCA Trentino TV in collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino In questa puntata parleremo delle patologie del colon retto e anche del tumore in particolare che può colpire questa parte del nostro corpo Ne parliamo con il dottor Giovanni De Pretis, direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale di Trento A lei subito chiediamo quante persone vengono colpite in Trentino da questo tipo di tumore È un tumore piuttosto frequente, pensiamo che sia in Trentino che a livello nazionale è la seconda causa di morte dopo il tumore del polmone E come frequenza è la seconda sia nell'uomo che nella donna In Trentino si fanno circa 350 diagnosi di nuovi casi per anno E quindi proprio per la sua frequenza è opportuno cercare di prevenirlo se è possibile Ci sono dei comportamenti che si possono seguire per prevenire l'insorgere di questo tumore? Sì, è possibile ridurre la frequenza e il rischio di questo tipo di tumore Con dei comportamenti che sono quelli poi consigliabili anche per altre problematiche È importante un'alimentazione sana, alimentazione sana da questo punto di vista vuol dire non eccedere nel consumo di proteine Avere un consumo di frutta e verdura elevato Ma anche altri comportamenti quali per esempio il non essere in sovrappeso Perché le persone obese hanno un rischio francamente aumentato E anche ad esempio fare una buona attività fisica Si è visto che riduce la possibilità di sviluppare questo rischio di tumore Quali sono i sintomi di questo tipo di tumore? I sintomi sono importanti ma dobbiamo tenere presente che purtroppo come per molti altri tumori Almeno dell'apparato gastroenterologico sono sintomi che spesso sono comunque tardivi Cioè insorgono quando il tumore è già presente da tempo in fase abbastanza avanzata Quello che dobbiamo osservare sono soprattutto la presenza di tracce di sangue nelle feci Che è una cosa che deve allarmare, deve comunque indirizzare il paziente a contattare il proprio medico E poi come questo vale per altri ambiti anche stare attenti ai cambiamenti, alle novità Per quanto riguarda per esempio il proprio alvo e le proprie abitudini nell'evacuazione E quello che dobbiamo stare attenti è a osservare eventuali cambiamenti Lo stesso per quello che riguarda disturbi in genere dell'apparato digerente In particolare gonfiore, distensione e dolore La cosa importante è fare attenzione soprattutto alle novità Come viene diagnosticato il tumore al colon retto? Come si cura e quali sono i risultati? Quando si sospetta questo tipo di neoplasia L'esame che è da fare, perché è quello che consente la migliore esplorazione del colon retto È la colonoscopia È un esame che si conduce con un endoscopio, uno strumento flessibile Che presenta una telecamera in punta Che permette sia di esplorare tutto il colon retto Ma anche di fare dei prelievi, di fare delle asportazioni di piccoli polipi E quindi anche di iniziare delle procedure terapeutiche Soprattutto nelle forme iniziali di tumore Comunque il processo di cura spesso è più complesso Soprattutto nelle forme avanzate Perché richiede interventi chirurgici Può richiedere chemioterapia Può richiedere radioterapia Ecco perché è importante che venga valutato Da un gruppo multidisciplinare Che a Santa Chiara è attivo Al quale deve partecipare il gastroenterologo L'oncologo, il radioterapista, il radiologo e il chirurgo In Trentino è attiva una campagna di screening Come è organizzata e quante persone raggiunge? È stata attivata tre anni fa Un progetto provinciale di prevenzione Questo progetto che è piuttosto complesso Ha articolato e ha richiesto anche un impegno di risorse importante Una collaborazione fra i diversi professionisti Consiste nel inviare alle persone fra i 50 e i 69 anni Oltre 115 mila nella provincia di Trento L'invito ad effettuare un semplice test Che si chiama test del sangue occulto Che è possibile che il paziente faccia al proprio domicilio E che se questo test è positivo Induce ad effettuare degli approfondimenti diagnostici Gli approfondimenti diagnostici sono la colonoscopia E può essere interessante sapere Che normalmente il test è positivo in circa il 5% delle persone Quindi il 95% delle persone riceveranno a casa la comunicazione Che il test è risultato negativo E che è sufficiente che lo ripetano dopo due anni E verranno nuovamente invitate Il 5% delle persone che invece avrà il test positivo Verrà contattato per un colloquio col gastroenterologo Che gli spiegherà l'opportunità di fare questi approfondimenti diagnostici Per chiarire perché vi è questa piccola perdita ematica non visibile Lei ha conoscenza di questa campagna di screening? Sì, sono a conoscenza Hai ricevuto la lettera? Abbiamo ricevuto la lettera Non sono a conoscenza, no Hai fatto dei controlli per tenere... No, io non l'ho mai fatti Le piacerebbe semmai essere informato su questa cosa? Ma sempre, è sempre interessante sapere di queste cose E lei ha conoscenza della presenza della campagna di prevenzione per il tumore al conorretto? Sì, siamo a conoscenza Proprio perché ci ha informati l'azienda sanitaria tramite una lettera Come giudica questa iniziativa? Buona Ci letta un po' le cose Perché altrimenti si è un po' resti Soprattutto su questa prevenzione Invece con l'aiuto della lettera e del personale dell'azienda sanitaria Ci si avvicina con meno paura, diciamo Quali sono stati finora i risultati della campagna di screening? Teniamo presente che i risultati di una campagna di screening Mediamente si misurano sui lunghi tempi Si misurano sui lunghi tempi perché l'obiettivo è quello di ridurre la mortalità per questo tipo di tumore Questo necessita di molti anni prima di ottenere i risultati finali Noi abbiamo completato, anzi stiamo completando questo mese gli inviti del primo round Che avvenne proprio nel distretto di Trento E possiamo già comunque trarre un bilancio che direi che è soddisfacente In quanto per l'adesione abbiamo avuto un'adesione poco inferiore al 60% Che è superiore comunque alla media che si ottiene a livello nazionale ed internazionale Le persone poi che hanno avuto il test positivo Oltre il 97% hanno fatto gli approfondimenti e la colonoscopia E questo ha permesso di individuare oltre 200 cancri del colon asintomatici E il grande vantaggio è che se noi li individuiamo prima Le possibilità di guarigione passano dal 50% a oltre l'80% E non è necessario un percorso terapeutico aggressivo che è anche più pesante per il paziente Ed è tutto per questa puntata Noi ringraziamo il dottor De Peretis Prevenzione e salute torna la prossima settimana